Volevo condividere con voi su questo canale un intervento recente che mi è capitato in un territorio periferico. Io lavoro nel 118 da circa una dozzina d'anni come medico, ci sto da una ventina in tutto, prima con altre funzioni diciamo tecniche da soccorritore. E diciamo di cose in questi ultimi venti e rotti anni ne ho viste, ma non c'è mai, come dire, occasione per annoiarsi. E ovviamente si impara da ogni singolo intervento anche il più banale. Bene, mi capita questo intervento che volevo condividere per farvi capire un po' quali sono le dinamiche che sfuggono agli organizzatori, sfuggono a chi pensa di gestire con le tabelle di Excel, con i numeri, con i flussi, un servizio delicato come quello di Emergenza. Bene, mi capita di essere attivato su un rosso base sul quale ovviamente erano stati inviati solo i volontari, perché dovete sapere che in Emilia Romagna c'è anche questo delirio del codice rosso base in cui vanno i volontari, poi il volontario decide se ha bisogno dell'automedica o meno, cioè deliri assoluti rispetto alle codifiche nazionali. Comunque, detto questo, l'equipaggio che interviene correttamente chiede l'intervento medico e quindi noi procediamo con l'infermiere per telefono, chiamando, mi dicono guarda c'è un'orticaria, una reazione diciamo allergica, non capiamo a che cosa, per cui va bene, pronti, andiamo. E quindi mentre andiamo sull'intervento, come spesso accade, si fa un piccolo momento di riflessione e preparazione con l'equipaggio nel quale si dice bene allora se ci troviamo in questa situazione teniamo pronti questi farmaci, in questo caso avevo detto a scanso di equivoci teniamo aspirata un'adrenalina just in case, perché se non affilassi ovviamente dobbiamo comportarci in questo modo, e se invece ci troviamo davanti a una situazione più tranquilla facciamo così così cosà. Per grosse linee ovviamente, perché poi scopri tutto quando arrivi sull'intervento. Quindi arriviamo sull'intervento, c'è questo giovane uomo con una reazione effettivamente allergica, prevalentemente a dimostrazione cutanea, quindi orticarioide, senza particolari segni di criticità. I parametri vitali sono tutti nella norma, la pressione 130-90, la frequenza cardiaca non particolarmente elevata, non particolarmente tachicardica, lui con un grosso però senso di agitazione, un grosso senso di malessere. Abbiamo accesso venoso, si iniziano tutte le classiche manovre di assessment, quindi di valutazione, e si inizia anche il posizionamento della linea venosa, dei liquidi, mentre l'infermiere posiziona la linea io preparo i farmaci, quindi ovviamente la clorfenamina, ovviamente l'osteroide, cioè tutto quello che viene fatto in una situazione di questo genere. E si somministra già questa terapia facendo la rivalutazione, poi controllando anche, perché il paziente lamenta un certo disconforto toracico, non ci sono particolari fischissibili, la saturazione del 97%, e ovviamente si inserisce l'elettrocardiogramma per valutare che non ci siano anche degli scherzi che ogni tanto, tra l'altro, la liberazione massiva di stamina fa. Niente, tutto apparentemente nella norma come parametri vitali, quindi non ci sono dei crash particolari. Fa la sua terapia, insomma, ci organizziamo per il caricamento, ovviamente stando sempre dalla parte dei bottoni. Perché? Perché la sensazione, il percepito, il vissuto, sia mio che dell'infermiere, che mi dice anche, tengo pronta l'adrenalina di nuovo, gli dico, ma no, parametri sembrano tutto sommato coerenti, ma entrambi, che abbiamo, tra l'altro abbiamo iniziato ironicamente assieme, veramente da volontari, ormai vent'anni fa, a fare l'emergenza, entrambi capiamo che, o sentiamo, perché capiamo è una parola grossa, ma sentiamo che c'è ancora qualcosa che sfugge. E quindi, insomma, i criteri per il famoso shock anafilating, in quel momento i criteri diagnostici non ci sono ancora, anche perché non c'è un'esposizione a un allergene noto. Non si riesce a ricostruire, sì, si ricostruisce che è stato preso un farmaco il giorno prima, ma sono passate più di 24 ore, dopodiché sulla giornata non ci sono esposizioni a nuove sostanze, o comunque non nelle ultime ore, cioè parliamo di... Ma ovviamente i criteri diagnostici dell'anafilassi sono i più, come dire, infimi, e nell'arco di pochi minuti, nonostante ovviamente già le terapie fatte, eccetera, eccetera, il paziente che sembrava comunque non particolarmente, come dire, rassicurante, non potrebbe essere, evolve ulteriormente e manifesta anche il secondo criterio diagnostico, che rientra nei criteri di secondo tipo, nei tre grandi filoni di diagnosi di anafilassi, che sono quelli gastroenterici, con ovviamente in questo caso una emissione, diciamo così, di litri e litri ovviamente di liquidi, quindi verosimilmente poi anche un'esposizione con questo allergene, per via probabilmente, mi viene da pensare, alimentare, con ovviamente la rapidissima evoluzione, al che dico, basta, adrenalina. Ovviamente l'adrenalina, che a quel punto somministrata prontamente, nella classica maniera, 0.5 intramuscolo, eccetera, rimette rapidamente il quadro, nonostante il paziente non avesse ancora un'ipotensione franca da shock. Ma d'altronde i criteri diagnostici di anafilassi, i criteri diagnostici di questa terapia, mi sono ovviamente poi andato a ricontrollare anche tutte le linee guida, erano esattamente quelli. E io stesso mi sono chiesto poi con l'infermiera, noi di anafilassi ne abbiamo viste, non è che ne abbiamo viste due, non è che ne abbiamo viste tre, ne abbiamo viste tante, anche perché il 118 è uno dei punti in cui vedi la prima diagnosi di tante cose, la prima manifestazione pre-diagnostica, pre-ospedale, pulita, come in natura la dovresti vedere, insomma. Ma non tutte le diagnosi sono così facili, sono così immediate, in particolare, addirittura appunto riguardavano le linee guida, una quantità importantissima di diagnosi di anafilassi sono ritardate o sono non prese correttamente, perché ci si aspetta il paziente sempre collassato dall'inizio. E soprattutto se non riesci a ricostruire una concausalità, ma addirittura le linee guida ti dicono controlla il likely allergen, quindi cioè quello che potrebbe essere probabilmente per il paziente l'allergene. E ci siamo chiesti con l'infermiere, ma questo caso che abbiamo gestito in arco dei 15 minuti di valutazione, come avrebbe potuto essere correttamente gestito, individuato e messo in sicurezza, tra l'altro appunto arrivando in un ospedale, che quando siamo arrivati in ospedale era esploso di pazienti, con l'impossibilità di gestire, il paziente era già stabilizzato, era già perfetto quando è arrivato in ospedale, nel senso che aveva ricevuto tutto il trattamento, che avrebbe anche dovuto in teoria ridurre, prevenire drasticamente anche le eventuali crisi successive. Ma come sarebbe stato gestito questo intervento in assenza di un mezzo avanzato, realmente avanzato, fisicamente presente, che poteva valutare non solo la fotografia dell'inizio, ma avere una valutazione clinica, mettere due dita su un polso, fare delle valutazioni oscultatorie, fare delle valutazioni generali cliniche con una serie di domande? E ce lo siamo chiesti. Riscorrendo la procedura, riscorrendo la famosa procedura, quella è tanto contestata di anni fa, questo paziente sarebbe stato fuori da quella procedura, nei fatti. Perché andandola a leggere, mancando alcuni dei criteri, appunto di quel tipo di procedura, non rientrava nella somministrazione di adrenalina, che invece, secondo le raccomandazioni linee guida, avrebbe dovuto ricevere. La seconda cosa che viene fuori è, ma come avrei fatto a gestirlo per telefono? Mi sono chiesto, ma se io fossi stato il medico di centrale, avrai potuto gestire un paziente del genere in videoconferenza? Assolutamente no. Assolutamente no, per una serie infinita di motivi. Uno, perché ovviamente il tempo di cura, il tempo di valutazione, il tempo di decisione delle terapie sono fondamentali. E se tu non vedi il paziente momento per momento, non lo vedi con i tuoi occhi, con i tuoi sensi, con la percezione della visita che puoi fare, certe cose te le perdi. Per videocamera probabilmente avresti preso delle decisioni completamente diverse, o addirittura avresti, come sarebbe poi successo, perché stava per accapitare ovviamente anche a noi, perché le situazioni evolvono molto rapidamente. e tu non puoi pensare che l'infermiere da solo, mentre ti tiene il telefono per la videocamera, o ti tiene il caschetto, ti faccia fare le robe in remoto, su un paziente, ripeto, che devi visitare mettendoci le mani, parlandoci, facendo domande, guardando l'ambiente intorno a te, liberamente, cercando di capire, cercando di fare delle connessioni, cercando di mettere insieme i pezzetti. E quindi ci siamo interrogati e entrambi siamo arrivati alla, come dire, diagnosi finale. Che non è possibile remotizzare tutto, soprattutto non è possibile remotizzare la cura dei pazienti in emergenza, critici, a questo livello. E che hai bisogno di due operatori che fanno molto spesso le cose sincroni per riuscire a evitare un'evoluzione negativa o a peggiorare la pronuncia dei pazienti. Perché i pazienti purtroppo tendono a fare quello che la natura per loro prevede e non a seguire le caselle di Excel e non a seguire il protocollo diagnostico. Soprattutto se il protocollo diagnostico come quello dell'anafilassi apparentemente semplice, apparentemente poi appunto una fava, prevede, se lo andiamo a rivedere, almeno tre diversi criteri diagnostici e in alcuni di questi non è nemmeno prevista l'ipotensione. Quindi capite che, come dire, bisogna fare pesi e misure distinte e bisogna stare molto attenti a fare scemenze, idiozie, come togliere ai pazienti le equip avanzate o far sì, per motivi organizzativi, che alla fine quell'equip arrivi tardi. Perché questo è il tema. Non sono sostituibili con altro. Grazie e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti perché questa, come dire, condivisione penso che ne faremo diverse per raccontare un po' i vissuti e quello che può cambiare, come dire, le sorti di un paziente, si spera in meglio chiaramente, quando c'è la presenza di un'equip avanzata. Grazie.